Ci siamo vicino a una recensione, vi paro oggi del topolino Neon Edition, questo ennesimo fumetto extra che stavo per imbustare, ma poi mi sono detto perché no, recensiamolo anche con la spugnatura verde, che ricorda molto l'Evergreen che uscì un tempo, ed è dedicata a Marco Gervasio. Guardiamolo meglio insieme. Ed ecco dunque il fumetto, non ho ancora visto di chi sia la cover, ma potrebbe essere tranquillamente di Gervasio, quindi lo cerchiamo insieme, ed è appunto di Marco Gervasio stesso. Carina, mi piace, sicuramente attrae il cliente un pochino più giovane, ma mi piace. Così come invece la spugnatura, anche se, ripeto, fa riferimento già a un'idea al tempo utilizzata, e sono le storie scritte, disegnate da Marco Gervasio. Ora, sappiamo tutti che Gervasio è quel tipo di autore che negli ultimi 5-6 anni, forse anche di più, si è dedicato solamente a particolari contesti, in particolare quelli legati a Paperinic, Fantomius e Double Duck, di cui tra l'altro non sono neanche troppo innamorato, perché di fatto sono quel tipo di storie che andrebbe seguita una continuity, una timeline, io la memoria corta, e quindi non fanno per me, per quanto le apprezzi molto, assolutamente. La storia di Fantomius che sta uscendo, per esempio, ora, a maggio 2022, è molto valida, ecco, però, diciamo che paradossalmente ho preferito il Marco Gervasio che leggo in questo album, è una mia opinione, perché sono storie conclusive, autoconclusive, che hanno inizio e fine in 25 pagine. Io sono più fatto così, a me non piacciono tanto le storie a più puntate, o addirittura quel tipo di storie che durano 7-8 anni divise in parti, a meno che siano ben realizzate. E di fatto quelli di Gervasio lo sono, ma permettetemi di dire che io ho preferito queste, ecco, diciamo per lo stile che ha Gervasio, poi riesce ad essere molto flessibile, passa da Fantomius a queste storie, a Double Duck, a Etabeta innamorato, lo vediamo in una di queste storie dell'album, a Top Ranger, anche qua presente, a Paperinic. Quindi è molto flessibile come autore e lo rispetto tanto. 8 euro, un prezzo molto elevato secondo me, però mi sono destinato a comprare anche gli altri tre quando usciranno, perché sapete, questo è un extra edition che fa parte della nona quadrilogia ormai, o forse ottava, sì, ottava quadrilogia, che dopo la Writer's e le Metal, solo le ultime ho citato, esce appunto anche la Neone e non si sa chi siano i prossimi, già ve lo dico, perché non c'è nessun tipo di indizio e non voglio neanche prevederlo, perché solitamente sbaglio. Dunque, apriamo il fumetto, c'è l'indice, piuttosto corposo, fate conto che sono tutte storie abbastanza lunghe, tra le 20 e 30 pagine, tolto le tre di qui qua, che sono piuttosto brevi. Abbiamo qui una prefazione, secondo me, inutile, sono sincero, per quanto sia simpatico, è un dialogo fra Mastantuono e Intini, sull'amico Marco Gervasio, nulla che mi dia delle novità rispetto all'autore, ecco, preferito la post-fazione che dell'autore stesso. Paperino e il mostro del lago, una bella storia, mi è piaciuta, apriamo nel 2004, ora non so se Gervasio prima di quella data non aveva mai rispetto nulla, sicuramente si nota anche il tratto come è cambiato nel corso degli anni, era un tratto al tempo piuttosto anonimo. Sicuramente di Gervasio io apprezzo tantissimo, è uno dei miei preferiti, al tratto di Fantomius, perché riesce a creare delle atmosfere che solamente lui riesce e quindi di conseguenza anche la storia è molto godibile da leggere. Quindi con un tratto un po' acerbo la storia però mi è piaciuta, perché Paperino incontra quello che è un mostro nel lago e dovrà essere lui stesso a toglierlo di mezzo, meglio spostarlo, perché? Perché quel lago fa parte di Rockerdac, dei terreni di Rockerdac, di conseguenza lo zio vede un po' di sfida in ciò e in quanto quel mostro è su questi giornali, attira clienti e turisti, deve spostarlo Paperino. E cosa potrebbe mai accadere tra Paperino, un papero sfortunato e un mostro gigante? Ovviamente sta a voi prevederlo e perché no leggerlo e darmi un'opinione. Ovviamente la storia a me è piaciuta, è piuttosto godibile. Eta Beta e la Cotta Stellare, questa è la storia che io ho preferito, tanto che quando l'Alessi io non pensavo di leggere Gervasio. Il tratto così mi ha ricordato molto De Vita, Junior, insomma poi Junior sarebbe Massimo, ma il fio di Pier Lorenzo per questo dico Junior. Non so, probabilmente ha avuto un po' di influenza, infatti Gervasio solamente questa storia e Top Ranger, almeno in questo albo, sul topo ha realizzato. Non so per quale motivo, lui si è specializzato sui paperi, un po' come Cassi, solo sui topi, o Mottura principalmente nei paperi, però va bene pure così. Tolto il tratto, che comunque mi piaceva anche al tempo, per quanto un pochino anonimo, questa è la storia che ho preferito di Gervasio e che forse ricorderò a prescindere a priori di quest'albo, di Gervasio, oltre Fantomius, Double Duck e Paperinic, ovviamente, perché lì sono saghe memorabili che a me piacciono relativamente, ma in un contesto fumettistico sono spaziali come saghe, come contesti. Comunque, la storia è molto bella perché Topolino riceve Minni in casa durante un pranzo, ma Minni si porta dietro un'amica, una tal Stella. Topolino, per non fargli far da candela, decide di chiamare un amico, Pippo non c'è, Basettoni neppure, chi può chiamare? Eta Beta. E dunque, Eta Beta inizialmente molto maldestramente entra in casa, si vuole pulire, vuole fare bella figura, quasi come se in realtà però non gli interessasse molto della presenza femminile, ma vuole fare bella figura a priori, perché Eta Beta, vuole fare un po' il buffo, ma quando Eta Beta incrocia lo sguardo di Stella è amore a prima vista, sicuramente unilateralmente da parte di Eta Beta. Non vi dico altro. A me questa storia ricorda molto anche un mio evento del passato, che invitai la mia compagna a mangiare a casa, la mia compagna si portò dietro un'amica, io dovetti chiamare un amico, e quei due poi si misero insieme. Ora, non ricordo però quanto sono durati, non sanno più insieme, però parliamo di sei anni fa, no? Allora mi è venuta in mente questa storia, quindi la ricorderò per sempre, perché in qualche modo ricalca un mio evento del passato. Molto, molto bella. Mi è davvero piaciuta, anche nel disegno e di fatto nella storia. L'Ispettore Manetta, gli alibi perfetti. È vero, c'è anche questa storia legata a Topolinia, ma me la sono dimenticata perché di fatto il Topo non compare mai. E da un lato meglio, visto che per me Manetta e Roxassi riescono bene a interpretare loro personaggi buffi e goffi quando manca Topolino. Perché se ci fosse stato Topolino, il caso che ovviamente Roxassi e Manetta devono andare a concludere e investigare, Topolino avrebbe impiegato molto meno. Ma qui parliamo di due personaggi, ripeto, goffi, quindi la simpatia prima di tutto. Ovviamente verrà richiesto l'aiuto anche di Basettoni. E in tre finalmente riusciranno a capire chi sono i ladri di due rapine abbastanza anche importanti. Storia interessante, carina, di fatto non mi ricordavo neanche all'inizio recensione di averla letta, ma rivedendo il titolo sì, mi è anche piaciuta. Solo che non la collocavo all'interno di Topolinia perché di fatto il Topo non compare, ecco. Di Paperone e la gara del multisala. Storia in cui Gervasio probabilmente sperimenta un altro tratto, un altro stile, che a me non piace. È quel tipo di stile molto anonimo, che probabilmente utilizzerebbe qualunque autore Disney che entra per i primi anni nella Disney, ma questo è un commento, spero non critico. Ecco, è uno stile molto bello, assolutamente, ma relativamente ad altri è molto anonimo. Ma tralasciando lo stile, che comunque era ancora in corso di svolgimento, di perfezionamento, poi Gervasio ricordiamo come disegna ora e con Top Ranger alla fine ne abbiamo un'idea per ricordarci. La storia è molto bella perché anche qui Di Paperone, ovviamente, è l'ennesima sfida contro Rockerdac, ma è creativa l'idea della multisala. Di Paperone si rende conto che il suo tallero, o tallero, insomma, il suo cinema, va non più a gonfievere come una volta, anzi è in declino e quindi deve battere la concorrenza di Rockerdac creando quello che è il multisala. Quindi in un solo cinema, come di fatto accade nella realtà, vi sono più sale, più film contemporaneamente. La sfida si crea proprio però a chi ha più sale, a chi trasmette più film contemporaneamente. Addirittura il dollaro, che così viene chiamato poi la multisala di Di Paperone, aumenta le sale più di 100 film in programma. Ma quello che accade è che una sala può essere una fila dritta di 10 posti, un'altra sala può essere guardando il soffitto, poi per arrivare al film c'è una serie di un labirinto telefonico. Insomma, poi ci si crea un sacco di confusione fino a che si arriverà al boom, anzi allo scoppio definitivo di questa idea e chi ci rimetterà sarà Paperino, come al solito, perché li darebbe lui. Di Paperone è il cambio di Bassotti. Qui lo stile cambia leggermente di nuovo, è un pochino più dettagliato. Secondo me, bella storia, ma di fatto come tutte, quindi a me il volume è piaciuto. Se non fosse che una ristampa, io le storie già le possiedo, però poterle leggere in questo formato non mi dispiace. C'è poi così anche tematico, solo Gervasio, insomma, a me piace come edizione e come idea. E la storia ricalca un classico fallimento dei Bassotti che però in qualche modo sono messi alla prova, non solo in questa storia, ma questa è una delle due di quest'albo, da dei Bassotti scozzesi che quindi cercano di togliergli il posto. E i Bassotti si alleeranno incredibilmente, ci proveranno con lo zio per cercare di eliminare quelli scozzesi, visto che sembrerebbero anche più pericolosi. E lo zio tra i due probabilmente sceglie, anzi, giusto che sia così, quelli un po' più stupidi, ovvero quelli paperopolesi. E qua, appunto, l'altra sfida che vi parlavo, i Bassotti e la sfida in rosa, perché invece di andare contro quelli scozzesi, dopo circa un annetto, Gervasio realizza un'altra storia, che tra l'altro fa riferimento anche con la scalia proprio alla storia precedente, ma che di fatto passò un anno, dove la nonna, personaggio che non so se ha creato Gervasio e se poi si rivede, un personaggio che io ho amato molto e vi dirò anche il motivo, mette in sfida i Bassotti contro le Bassotte. Anche qua una sfida per capire chi si può giudicare la permanenza a Paperopoli. Ovviamente vinceranno i Bassotti, come di fatto la sfida precedente, questo è ovvio, ma la nonna mi è piaciuta perché oltre a essere strategica, cattiva, un po' la presidentessa dei Bassotti, in realtà è molto razionale, è molto lucida e proprio il suo giudizio lucido riuscirà a far vincere i Bassotti alla fine della sfida. Bella, bel personaggio e bella storia. Prossima, Paperino e l'ospite fuori misura, test e disegno ovviamente di Marco Gervasio, sempre nel 2007. Una storia che ricorda per me quella di Gotterson celeberrima, in cui Topolino si ritrova a dover gestire un elefante, molto più grande di questo in realtà, l'elefantino si chiamava, mi pare, qua invece siamo con Maramaldo e potete immaginare cosa potrebbe mai cadere tra Paperino, che vorrebbe dormire, vorrebbe rilassarsi, vorrebbe stare tranquillo, alle prete con un elefante. Ecco, solamente queste vignette in cui l'elefante gli entra dei due in casa vi può fare e dare un'idea. Ovviamente è molto scontata come storia, ma a me è piaciuta, perché anche in questo caso la scontatezza, anche se di casa, mi ha fatto ridere. Qui, qua, qua e la vela spiegata, nonché i segreti del karate e le battute del tennis. Sono tre storie probabilmente riempitive del tempo del 2008, quando ancora non vi era la Panini Comics. Di fatto con la Panini Comics forse Gervasio ha solamente una storia realizzata, che è l'ultima, Top Ranger, se non vado errato, le altre tutte prima. Non mi sto a prolungare tanto, anche perché il tempo passa ed è già lungo il video, ma sono tre storie corte in cui qui, qua, qua, grazie un po' all'arroganza, ma alla ingenuità di lei, quindi non proprio negativa, di Oliver, questo maialino, ragazzino, amico di qui, qua, riescono a spiegare a noi lettori che cos'è il tennis, che cos'è la vela e cos'è il karate, in pochi e semplici regole e dialoghi. Le classiche riempitive che mirano a educare il pubblico, in questo caso verso questi tre sport. Paperino è il primo della lista, battle 2009, il tratto continua a migliorare, secondo me, anche solo la traccia, il contorno dei personaggi, ora è maggiormente definito e già mi piace di più, anche poi il dettaglio che mi è dato a un avveniente di questo tipo, piuttosto anonima. La storia è anche molto bella, perché Gervasio per me, ecco, forse questo posso dire, è creativo. Non so se in tutte le sue storie, perché qua se ne propongono 12, 13, e probabilmente ne ha fatte molte di più, Tolto, Fantomius, Paperinic e Dumbledore. Probabilmente in tanti altri ha ceffato, ci può stare, come ogni autore, fa delle storie bellissime, storie un po' meno belle, ecco. Storie che si ricordano, le storie invece altrettanto no. Ma a me queste qua di quest'album mi sono piaciute e questo ricalca un classicone di Paperino con la famosa lista. Chi non si è mai chiesto da dove derivi questa lista? Ecco, Gervasio ci prova, da una sua interpretazione, come già ci provarono anche altri autori, non è la prima volta che leggo una storia di questo tipo, e addirittura il primo debito che Paperino avrà con lo zio, e che sarà scritto nella famosa lista, ormai lunghissima, arriva proprio da quando il Papero era alle superiori, era al liceo, per incontrare Paperina. Arriverà a creare una serie di disagi però allo zio, chiedendo gli soldi, che inizialmente non gli verranno mai dati, ma in maniera indiretta Paperino creerà, ripeto, quello che è il suo debito primordiale con lo zio. Rimango davvero affascinato dai disegni. Stavo vedendo questa tavola, è super dettagliata, è bellissima. Non so perché, forse il contesto, vediamo anche Archimede Giovane, Paperoga, Gastone, non lo so, però mi ha veramente incuriosito questo stile che ha avuto nel 2009. Ottimo, bravo Gervasio, non che devo dirlo io, ma confermo. Paperino è l'incubo di una notte d'inizio estate, un altro passo avanti di due anni nel 2011, il tratto ormai appurato, che sia sempre più tenebroso, sempre più ombreggiato, piano piano sta arrivando il Gervasio che conosciamo. Bellissima storia, Paperino riceve da Paperina un regalo, un cappotto, un cappotto piuttosto pesante, preso a Mare del Nord in vacanze, e quel cappotto in qualche modo stimola l'arrivo, in maniera in realtà di pura coincidenza, poi se leggerete capite il porché, di uno Yeti, uno Yeti che si ritrova a Paperopoli, tra l'altro su due zampe, quindi un po' umanoide, che cerca questa pelliccia, ma perché? E soprattutto come riuscirà Paperino a devincolarsi da ciò? E ancor di più, poi non vi dico altro, perché uscendo da casa Paperino insieme ai nipotini e lo Yeti si ritrovano in mezzo a un bosco? Quando invece dovrebbe essere la classica Paperopoli? Non vi dico nient'altro, bella, bella storia creativa, anche qua io confermo. E qua Top Ranger, l'ultima storia di Gervasio, nonché, no in realtà neanche questa fu di Panini Comics, perché io mi aspettavo di sì, ma invece è 14 numeri prima, quindi siamo, sì infatti a luglio, la prima di Panini Comics fu la 2019, come numero di Topolino, e parliamo nell'ottobre del 2013, quindi effettivamente non c'è neanche una storia di Panini Comics, vabbè, non è un problema, ma ovviamente è una curiosità, un piccolo aneddoto. E qua al tratto per me si sta ormai delineando a quello che conosciamo, molto molto bello. Ora io a inizio recensione, forse non vorrei essere frainteso, ma dissi che appunto ho preferito queste storie a Fantomius, ma in realtà non sono paragonabili ovviamente, è quello che già pensavo pure prima, la mia idea è che queste storie sono comunque ben realizzate, e io non avevo mai fatto caso al talento di Gervasio, perché in qualche modo negli ultimi 10-8 anni venne un po' oscurato da quelle saghe che sta porando avanti in maniera egregia comunque, ma in qualche modo io lo preferivo già anche così, ecco. E Top Ranger ne è un'ulteriore prova, la sua ultima storia in quest'albo, in cui in realtà il contesto a me non piace, perché non sono un amante del West, né a livello cinematografico, né a livello fumettistico, di romanzi, immagini, infatti c'è chi mi chiede, ma Zio Alain, che dovessi scegliere un altro fumetto, quale preferiresti oltre il Topolino? Io ti rispondo Diabolic. Per me Diabolic è quella lettura thriller che un domani la butto lì, mi piacerebbe leggere, vedere un po' effettivamente se mi può interessare o meno. Per esempio Tex non fa parte di me, perché quell'ambientazione country, western a me non piace. Magari poi la storia è bellissima, anzi, non magari, sicuramente Tex è bellissimo, perché probabilmente è anche il fumetto che ha più vendite, più anche di Topolino, nel panorama italiano. Però a me il contesto non piace. La storia però mi è piaciuta, ugualmente perché è ben realizzata, Topolino riceve gli albori di essere Top Ranger grazie a Tonto Lone, nonché Pippo, questo è il suo nome, a me non piace molto quando si dà il nome diverso dal personaggio, ma vabbè, per contestualizzare meglio, così dicono, vabbè. Per diventare un Top Ranger, però non sto a spiegarvi tutte le ragioni dell'essere, ma mettendosi la mascherina, avendo tappi di sughero al posto di proiettili e con un cavallo bianco, che tra l'altro in qualche modo aiuta da scappare da un orso, e così inizia l'avventura del Top Ranger, anche di Topolino, insieme a Pippo, anche lui con Topolino, che chiama spesso che Mosabe, che significa fidato amico, non ricordo in che lingua, ma è una cosa che già sapevo. Ovviamente prima di ciò viene l'introduzione legata al fatto che Topolino avrebbe dovuto portare Gambadilegno a processo, ma un'imboscata gli venne tesa, e quindi Topolino incontra Pippo, e poi quello che già vi ho detto. La storia ovviamente va avanti alla ricerca di questo Gambadilegno, dei Furfanti, disegno che ricorda ormai quello che conosciamo tutti, di Phantomius, o anche Double Duck. E questo ragazzi era l'albo legato a Marco Gervasio. Qua viene a postfazione, in cui effettivamente ho trovato più utile, sicuramente rispetto alla prefazione, che è un dialogo. Qua abbiamo un disegno, di non so quanti anni fa, non ho capito se è suo o meno. Comunque, lui, Marco Gervasio, è un cliente come tutti noi, da ragazzino mercoledì, è il mio preferito, dice, di conseguenza, non vedeva l'ora concesse il topo, e in qualche modo, presumo che si sia realizzato un suo sogno, ovvero quello di esordire, e di essere una colonna portante del Topolino italiano. Ci ho detto, vi ringrazio, vi saluto, prossimo album, la non edition, io lo comprerò, dovrebbe uscire il 21 di luglio, direi, quindi in piena estate, non so cosa farò, ma sicuramente lo prenderò, ed eventualmente, senza promesse però, lo recensirò, vedremo anche il nome e cognome, perché se mi propongono Giorgio Cavazzano, insomma, stufa, a me piacerebbe, non dico il nome, ma un autore che non è mai uscito.